Eccoci qua, buongiorno, sono appena le 6.30 di mattino di questa bellissima giornata, buon caffè a tutti, me lo gusto, eccoci qua, ho fatto questo video per tutti i miei amici, anche se un po' essendo un po' raffreddato, soffrendo un po' di energia, un po' a tutti, volevo ringraziare a tutti quanti per gli auguri di giorno 17, siete stati tantissimi come sempre, vi stimo, vi adoro a tutti e cosa volevo dire? Un forte bacio a tutti quanti, pochi secondi, pochi, qualche minuti solo, prima che scendo per fare alcuni servizi, volevo solo salutarvi e ringraziarvi per tutti gli auguri che vi avete omaggiato. noi ci sentiamo al prossimo video, sono in programmazione un altro video, poi vedi un pochettino, anzi di fare anche qualche altra cosa molto divertente, poi vediamo un pochettino com'è la situazione, così ci regoliamo, poi la voluzione da che crimine è stata da buon esito, abbiamo quasi terminato, quasi finito ovviamente tutte le riprese, ci mancano altre due o tre riprese e poi penso che abbiamo finito il film. l'amico Dino già sta in opera, già sta montando ovviamente, e penso in questi giorni sarò gradata, la durata proprio del montaggio, finito adesso. Che voglio dire? Un forte bacio a tutti quanti, ci sentiamo alla prossima occasione amici, dentro sono Dino e tutto. Apro e chiudo, eh chiudi e apro, vabbè. Telecomandino, mi mancavo eh, ciao. Telecomandino